avete l'aria richiesta per dirmi qualcosa che non mi farà piacere per qualcosa che ho fatto sono stato sgarbato con voi no no anzi e allora non mi chiedete perché ma forse è meglio che non venga più vedrete troverete qualcun altro anche più bravo di me questo non è difficile forse questo lavoro non è adatto a voi avete studiato forse avete ricevuto una proposta migliore lo capirei anche se mi dispiacerebbe molto la verità è che da quando siete arrivata non riesco a immaginare questo posto senza di voi davvero lasciamo stare potrei chiarvi dei problemi e voi siete stato gentile con me dei problemi ma chi ti sei